L'ex amica di Meghan Markle è rimasta colpita dall'essere stata snobbata dalla duchessa del Sussex dopo l'annuncio del suo fidanzamento con il principe Harry. La personalità televisiva Lizzy Kundi ha affermato di essere stata amica di Meghan quando è venuta nel Regno Unito in cerca di un uomo di Londra, prima di incontrare il suo attuale marito Harry. Tuttavia, la conduttrice radiofonica ha aggiunto che Meghan la fantasma una volta che la coppia si è fidanzata nel 2017. Ha detto, mi ha fatto il ghosting una volta che il fidanzamento ha avuto successo. Punto. Non è la persona peggiore che a fantasma. Nel frattempo, il duca del Sussex ha annunciato questa settimana che sta pianificando di pubblicare un libro rivelatore l'anno prossimo che ha detto sarà accurato e del tutto veritiero. Ha aggiunto che lo scriverà non come il principe sono nato ma come l'uomo che sono diventato. Tuttavia, Joe Little, caporedattore della rivista Magesti, ha affermato che è probabile che il libro abbia fatto affondare i cuori all'interno della famiglia reale. Ha aggiunto che Harry probabilmente dovrà intensificare il suo gioco per essere ancora più sensazionale della sua chiacchierata esplosiva con Oprah Winfrey a marzo. Il signor Little ha dichiarato. Deve essere su di lui la pressione per trovare qualcosa di ancora più sensazionale di quello che abbiamo appreso dall'intervista di Oprah. È difficile non pensare che Harry voglia ristabilire l'equilibrio, per quanto lo riguarda, con la stampa, anche se è stato fatto sullo schermo. «Penseresti che i cuori continueranno ad affondare a Buckingham Palace, Clarence House e Kensington Palace? Suppongo che in un mondo ideale avrebbero voluto tracciare una linea dopo le rivelazioni di Oprah. Ma chiaramente questo non è il modo di fare le cose di Harry». E quindi questa non sarà stata una grande notizia per la famiglia di Harry. Nell'intervista, Harry e sua moglie Meghan Markle hanno delineato in modo scioccante il motivo per cui hanno deciso di lasciare la vita da reali senior, con Harry che ammette di sentirsi intrappolato e Meghan che dice di essersi sentita suicida. Hanno anche affermato che un membro senza nome della famiglia aveva chiesto quanto potesse essere scura la pelle del loro figlio Archie prima che nascesse. Oprah in seguito ha chiarito che Harry aveva detto che non era la regina o il principe Filippo a fare i commenti sul colore della pelle di Archie. Buckingham Palace ha anche risposto rapidamente che la regina era addolorata dalle loro affermazioni, ma ha aggiunto che i ricordi possono variare.